Ciao ragazzi, sto andando in live sulla piattaforma Viola, seguiremo insieme la partita di Juventus-Napolin e mentre giocherò anche a FIFA quindi se volete vedere un po' di gameplay di FIFA 21 su Foot, nel frattempo seguiremo e commenterò insieme a voi magari vi risponderò alle domande, io la seguirò sul cellulare la partita vi aspetto comunque, il link lo trovate qui in bio, ve lo lascio qui nella descrizione e nel primo commento mi raccomando vi aspetto in numerosissimi, mi raccomando, dai raga, bella!